Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi vi do per la seconda volta il buongiorno io perché siccome Mario è un po' sbadato non vorrei si dimenticasse di ricordarvi l'appuntamento importantissimo per domani mattina alle 11 sabato 14 ottobre a Roma per gli amici romani o per chi si trova in zona. Alle 11 al teatro Sala Umberto che è uno dei teatri più importanti di Roma per la presentazione del libro di Mario Capiamo Moriamo assieme a tre amici molto importanti per lui che sono padre Maurizio Botta, Marco Scicchitano e Costanza Miriano. Si riuniranno quindi in quest'unica data domani 14 ottobre i quattro moschettieri e ricordiamo tutti i loro incontri insieme è partito poi quello che ha dato il via al Family Day. Quindi si riuniranno al teatro Sala Umberto alle 11 domani mattina per presentare il libro di Mario ed è un'ottima occasione per ritrovarci tutti insieme anche perché è l'unica data che faranno prevista insomma di loro quattro insieme. Quindi vi aspetto ci saremo io, Clara, gli amici del popolo della famiglia e tutti quelli interessati a capire un po' di più del libro di Mario. Quindi buona giornata, adesso lascio il trono al legittimo proprietario. Ed eccoci qua, eccoci, c'è il buongiorno a Silvia dato da Priscavegni, da Anna Gasparina Ligiatto, Stefano Terraneo, Alessandra Mondelli. Sto devo sistemare l'inquadratura perché Silvia è nettamente più bassa di me. Eccola qua, sistemato, c'è Leonardo De Stefano, Catiusha Longobardi, Paul Freeman. Avete sentito l'annuncio? Allora, noi non siamo Marco Cappato che oggi è uscito il suo libro e subito avuto la marchetta del Corriere della Sera. Però nonostante tutto questo continuiamo a dominare le classifiche di vendita su Amazon, continuiamo a stare in top 10. In settimo posto stamattina ho verificato, capiamo e moriamo evidentemente, continuano ad interessare gli italiani. Ma soprattutto domani c'è questa grande festa con Costanza Miliano, padre Maurizio Botta e Marco Scicchitano nella cornice straordinariamente suggestiva della Sala Umberto di Roma che sta a Via della Mercede, c'è la piazza San Silvestro, è uno dei teatri più antichi della capitale, 1882, pensate un po', e tendenzialmente era uno dei teatri dominati dal partito comunista. Ci andiamo a togliere la soddisfazione di prendere il teatro San Umberto e renderlo per un giorno luogo e culla del movimento pro-life. Sì, c'era Silvia di Cauco Frezza che però adesso è già andata via, saluto Nicola, Etta Mantovanelli, Davide Ogni e Bene, Granato De Stefano, Alessandra Mondelli, cioè diretta da Fatima, ci dice Alessandra Mondelli, grazie al gruppo Prechiera del Popolo e la Famiglia. oggi è il centenario della ultima apparizione mariana a Fatima, ultima apparizione mariana a Fatima, cento anni fa, 13 di ottobre del 1917, alla vigilia peraltro della rivoluzione d'ottobre in Russia. Noi ovviamente oggi ricordiamo questo avvenimento, dalle 17.30 siamo tutti impegnati in una serie di rosari pronunciati fisicamente o sul gruppo Prechiera Popolo e la Famiglia, abbiamo varie iniziative in giro per tutta Italia che personalmente mi aggregano a quella di Don Mirco Bianchi, un sacerdote coraggioso dell'Emilia Romagna che ha avuto il suo profilo e la sua attività di prechiera via web hackerata da fondamentalisti islamici e dunque sarò con lui riunito per la prechiera di oggi dalle 17.30. Ci sono varie iniziative di rosario ed è bene aggregarsi, una giornata di prechiera e anche di digiuno per chi vuole è importante e noi sicuramente la sottolineiamo come iniziativa positiva per l'Italia. Enzo Fortunato ci saluta dal PDF della Puglia, Antonella Bagno è a Roma con la cara suocera Eugenia, e allora domani ci vedremo sicuramente al Teatro Sala Umberto dove spero di trovare anche Ottavio De Lutio, c'è Lucia Toniolo Restelli, Vittoria Rossi. Vi ringrazio, vi chiedo di fare un mi piace, un condividi alla diretta, oggi seguiremo le vicende di cui già siamo occupati ieri di Loris Bertacco e purtroppo continuano a esserci paginate sui giornali dal tono univoco in cui si parla solo e solamente della scelta di suicidio assistito, senza metterla in discussione, senza avere alcuna forma di dibattito che riguardi la liceità di un ordinamento giuridico che massacra i più deboli, peraltro con la beffa di farli pagare, pagare anche cifre importanti per farsi eliminare, c'è un business costruito sulla pelle dei più deboli alimentando una cultura della morte che evidentemente non può essere la nostra. Candida Cioffice, buongiorno e buona preghiera, anche se lavoriamo possiamo pregare, certo, Sara Finazzi, saluto Danilo Cuccu dalla Sardegna, Stefano Sabbi, Roberta Pizzoccaro, Massimo Pistoia, Saluto Fabio, Saluto Fabio Chi, Saluto Albino Marino, non è una domanda Fabio Chi, si è proprio firmato Fabio Chi, Massimo Pistoia del PDF di Cesena, c'è anche Gennaro Rossi dal coordinamento editoriale, derivata Francesca Centofanti. Vi chiedo a tutti il mi piace alla diretta, la condivisione sulla vostra pagina e invitate gli amici a seguirci, parleremo di eutanasia ancora oggi e daremo anche qualche indicazione dopo l'approvazione del Rosatellum, perché alcune cose riguardano direttamente la vita e i prossimi passi del popolo, della famiglia, che lo ricordo peraltro è in campagna elettorale a Roma, per le amministrative del municipio Roma 10, dove ci misureremo con il centro destra, il centro sinistra, il Movimento 5 Stelle e molte liste al di là, diciamo così, di questi schieramenti per vedere anche a che punto è la nostra crescita sul territorio. Saluto Paola Perissinotto, Marco Morici, lasciare libera scelta agli individui, fare le cose secondo coscienza, vi sembra una cosa? Vabbè, insomma, la libera scelta, noi parleremo di questo tema della libera scelta e vedere se è veramente libera questa scelta. Saluto Don Francesco Colamonaco che è appena arrivato, Carla Stefanini è arrivata in ritardo, ti sei persa l'incipit di Silvia, saluto Rosa Eleonora degli Esposti, Paolo Ruotolo, Alessandro Nardelli, Maria Antonietta Carosi, Rita Venditti e Rita Mesiti. Come sempre, l'avvio della nostra giornata, della nostra trasmissione è affidata alle parole del Vangelo, la buona novella che facciamo ascoltare a tutti, anche a Marco Mori e a tutti gli amici che vengono qui perché non hanno molto di meglio da fare, è una giornata splendida di sole e con tanto altro che si può fare se uno non vuole ascoltare il Vangelo. Se però invece qui è bene forse che ascolti questa pagina di Vangelo che è tratta dal capitolo undicesimo del Vangelo di Lucca, di Lucca, scusa ho visto Vittoria Polacci mi è venuto in mente Lucca perché sono stato a Forte dei Marmi che è in provincia di Lucca pochi giorni fa e l'arrivo di Vittoria mi ha fatto ricordare questo. Vangelo secondo Luca, capitolo undici, i versetti sono quelli che vanno dal 15 al 26. Leggiamo insieme. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero è in nome di Belzebù, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo i loro pensieri, disse Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni in nome di Belzebù. Ma se io scaccio i demoni in nome di Belzebù, i vostri discepoli in nome di chi lo scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo e non trovandone dice, ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, ed essi entrano e vi alloggiano e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Questa è la parola di Dio di oggi, è una pagina di Vangelo esattamente netta. Ricordiamolo sempre, non è vero che il cristianesimo è la religione del volemosebbene. Il cristianesimo è il Vangelo, e il Vangelo ha questo versetto. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. O siamo nella sequela di Cristo, o siamo contro Cristo. Siamo molto chiari su questo. Il passaggio di oggi è un passaggio esigente, il cristianesimo è esigente. Interroga noi, noi stessi, ognuno di noi, per dire cos'è che facciamo se facciamo abbastanza per dimostrarci degni della sequela di Cristo. Don Francesco Colamonaco dice, oggi poniamo nel cuore della Vergine Maria il progetto del popolo e la famiglia nel ricordo dell'ultima apparizione a Fatima con la recita del Santo Rosario. In molti stanno scrivendo, dicendo che si uniscono al Santo Rosario oggi. Saluto Gian Piero Bonfanti del PDF di Monza. Saluto Vladimiro Campello del PDF del Friuli Venezia Giulia. Paolo Ruoto dice, parola perfetta per i falsi profeti. Saluto Gianluca Valpondi. Saluto Vincenzo Lelli. Stefano Terraneo, Mariangelo Attricarico, Emanuele Lobue, PDF di Torino, Alex Zino Finori che parla del dramma di Loris. Non è la morte in sé, ma il fatto che non si sia potuto accidere in Italia. Siamo al paradosso. Il paradosso più enorme, secondo me, è sulla pagina del Corriere della Sera che oggi racconta il caso di Loris. e intervista uno dei suoi amici, che si chiama Gianfranco Bettin ed è un leader politico di quell'area, l'area dei Verdi, in cui Loris era candidato e è stato anche consigliere comunale a Mira. E quello che mi impressiona è che in questa paginata, ovviamente, la pagina è fatta da l'intervista a Bettin e dalla marchetta al libro di Marco Cappato che è appena uscito, ovviamente anche quello, un inno, all'eutanasia al suicidio assistito in Svizzera. Ripeto, su O capiamo o moriamo non è uscita mezza riga. Su O capiamo o moriamo neanche mezza riga su nessun giornale italiano. Eppure, nonostante questo, siamo da settimane in top ten sulla classifica di Amazon di categoria. Di Marco Cappato non abbiamo avuto traccia, non vediamo traccia, diciamo così. Perché noi siamo popolo e questo è una cosa che evidentemente al Corriere della Sera prima o poi dovranno capire. Li inviteremo domani al Teatro Salomberto a vederlo, questo popolo che si riunisce intorno a Costanza Miliano, a padre Maurizio Botta, a Marco Scicchitano per parlare di un libro. È una cosa molto rara che si affitti, diciamo, un teatro, uno dei più capienti teatro della capitale per parlare di un libro. Evidentemente abbiamo delle cose da dire, ma queste cose da dire non interessano la stampa e invece fanno una pagina intera su questa vicenda di Bettin, ma Don Massimo Lapponi c'è neanche su Avvenire, no, neanche su Avvenire, mezza riga su nessuna parte. O capiamo o moriamo vive di vita propria, se lo stanno leggendo, distribuendo, fotocopiando, scambiando in tutta Italia, evidentemente ciò avviene perché il libro ha qualcosa da dire e da settimane, lo ripeto, leggiamo la Top Ten di Amazon che certo non è permeabile dai nostri interventi, quindi evidentemente è un dato di fatto. Il Corriere della Sera invece fa la paginata tutta pro eutanasia, una parte, lo ripeto, marchetta a Marco Cappato, una parte intervista a Bettin. Bettin si dice amico di Loris, questo signore 59enne che è andato a suicidarsi a pagamento in Svizzera. Ora io non lo so come viene concepita l'amicizia, per noi cristiani che abbiamo appunto nella nostra formazione l'imprinting dell'essere nella sequela di Cristo, l'amico è come Cristo, l'amico è colui che dà la vita per te, disposto a dare la vita per te. Ora scopriamo dall'articolo del Corriere della Sera che l'amico è quello che quando capisce che tu ti stai andando a suicidare ti dice buon viaggio. Leggetelo l'articolo perché è abbastanza impressionante. Questo amico invece di dire do la vita per te, questa è la tradizione del cristianesimo, da Cristo in giù, l'amico è colui che ti sostiene nella difficoltà pronto fino a dare la vita per te. Adesso abbiamo questa nuova declinazione dell'amicizia, come scrive Mauro Galastri, l'amico è colui che ti porta a morire ammazzato. Oppure l'amico è quello che se sa che ti stai suicidando ti augura buon viaggio. Ora, io sono stupefatto, sono davvero stupefatto. Poi vi meravigliate che nel memoriale di Loris ci sia scritto che Loris si uccide per solitudine. Si uccide perché nessuno si fa carico dal punto di vista anche emotivo, sentimentale, amicale della sua condizione di difficoltà. Questa è la verità. La morte di Loris, ma lo scrive lui nel suo memoriale, è una morte dovuta alla moglie che lo lascia, alla badante che non ce la fa più, alle badanti successive che approfittano dei suoi sentimenti, desideri e bisogni, attenzione, queste sono le espressioni, sentimenti, desideri e bisogni di cui evidentemente qualcuno si è approfittato e degli amici che hanno pensato che bene o male dire buon viaggio e questo si toglieva dalle scatole, era un problema in meno. Signori, io ho di questa amicizia, se questa è l'amicizia davvero non so che farmene. Io so che quando Daniele Lonardi arriva e dice saluto a tutti gli amici del popolo e della famiglia, dice amici, amici, Mirko De Galli dice la vicenda di Loris conferma il fallimento dello Stato che sceglie la via facile e più economica dell'eutanasia anziché essere prossimo ai bisogni di chi soffre. E' ancora peggio, è l'imperio della cultura della morte che ti fa sentire peso, che ti fa sentire qualcosa che è meglio che si auto elimina, che non ti fa avvertire alcuna forma di solidarietà nel prossimo, che finirà inevitabilmente, come in Olanda, a far sì che i figli tengano ferme le madri mentre le viene somministrato il pentobarbital. Io purtroppo racconto queste vicende in o capiamo o moriamo, ma siamo direttamente a questo bivio, o capiamo che dobbiamo salvarci da questa disfatta o moriamo. Ringrazio Luciana Frangioni che già sta leggendo il libro e lo trova molto interessante. Domani ne parleremo con attenzione e con, credo, un po' di enfasi al Teatro Salomberto, lo ripeto, dalle 11 cancelli aperti al Teatro Salomberto per prendere posto, perché poi bisognerà riuscire a entrare tutti, mi raccomando, e poi una volta che siamo tutti sistemati comincerà l'iniziativa che credo toccherà anche solo la nostalgia di chi ricorda le meravigliose giornate e serate contro i falsi miti di progresso che quattro anni fa innescarono un percorso che poi arriva fino al Family Day. Dice bene Stefano Terraneo, stiamo alla neolingua in cui si cambia il significato delle parole, la parola amicizia diventa, come dice Leonardo De Stefano, l'amico si fa un selfie mentre l'altro si suicida, o meglio dice buon viaggio, buon viaggio, l'amico ti fa così, capisce, lui dice chiaramente sul Corriere della Sera oggi, sapevo benissimo che quello era un viaggio per andarsi a suicidare, gli ho detto buon viaggio, gli ho detto buon viaggio, non lo so, sarà che sono veramente troppo sensibile su questo tema, ma non riesco a immaginare quale umanità ci sia davanti a uno che ti dice mi sto ammazzando e tu gli dici vabbè, ciao, buon viaggio, non riesco veramente a capire, è oltre alla mia capacità di comprensione, io so quello che facciamo se troviamo un qualsiasi sconosciuto che qui da questa terrazza volesse buttarsi di sotto, so che anche se è uno sconosciuto lo faremmo di tutto per evitare che si buttasse di sotto. Ringrazio Susanna Rimatori che dice che o capiamo o moriamo è arrivato fino in Cina e gli è piaciuto molto, Susanna non so come si è arrivato, moriamo fino in Cina, però se ci è arrivato viva le poste cinesi o non lo so se sarà una versione elettronica, un Kindle, grazie per avermi letto anche in terra cinese, è una bella soddisfazione sapere. Ho visto gente che mi ha mandato le foto dei volumi che ha ricevuto dalla Svizzera, che ha ricevuto in Gran Bretagna, quindi è diventata una lettura internazionale, ma che addirittura fosse arrivato fino in Cina non potevo immaginarlo, grazie Susanna per l'attenzione e anche per averlo trovato, un libro che ti è piaciuto molto come leggo nel messaggio che mi hai appena inviato. Saluto anche Enzo Tarantino, allora noi dobbiamo avere chiaro, se questa pubblicistica, la pubblicistica che ti fa la Marchetta appena esce il libro di Marco Cappato e ignora un libro che sta in classifica da settimane come o capiamo o moriamo, se addirittura fa la paginata per raccontare questa nuova forma di amicizia, un'amicizia che dice al suicida buon viaggio e non gliene fa interesse su niente, se tutto questo è una nuova umanità noi dovremmo preoccuparci. Intanto ringrazio Don Massimo Lapponi che dice che sta arrivando o capiamo o moriamo anche in Sri Lanka grazie al padre Priore che dovrebbe portargli, ringrazio Silvestro Vultaggio che dice che ha letto o capiamo o moriamo a Lausanna, quindi in terra svizzera, grazie davvero anche a te, questa prospettiva internazionale di o capiamo o moriamo mi sfuggiva e Monica Consigliere scrive dovresti fare una versione in inglese, forse hai ragione, dovrei davvero pensare a una versione in lingua straniera. Intanto arriva Elzbieta Volanovska che immagino sia di origine polacca e la salutiamo, nel giorno appunto in cui l'Italia ha imitazione anche della straordinaria esperienza polacca, si raduna attorno alla Vergine con il memoriale e il rosario per i cento anni dall'ultima apparizione Mariana Fatima, 1917-13 ottobre. Intanto saluto anche Mario Gambuli, Marco Fasulo, PDF Basilicata, Augusto Caratelli, PDF Lazio, Gabriele Marconi. Solo tre anni fa parlavano di diritto al suicidio, soltanto persone prive di qualsiasi nozione di diritto può immaginare un elemento del genere. In effetti anche il professore Zagrebelsky che è accerto vicino alle nostre posizioni teorizza l'impossibilità di declinare il diritto al suicidio. Saluto Federico D'Angeli, Carla Stefanini dice pensate lo smacco quando il popolo e la famiglia triunferà solo per merito delle nostre mani nude. È un lavoro che dobbiamo fare molto attento. Saluto Claudio Parisini che verrà domani al teatro Sala Umberto, saluto Marco L'Angelotti, saluto Roberto Cassano, hanno smantellato il cristianesimo, ora non sanno come colmare il vuoto infinito che solo Cristo può colmare e quindi vanno ad ammazzarsi e spingono a farlo. Pauroso, esattamente. Alessandro Margiotta ci ricorda la giornata di digiuno e di preghiera, saluto Gabriella Maiglia, PDF Toscana, saluto Tina Gaetano, è arrivato Mauro Chialassi dice uccidere non è curare, è levare un peso alle persone, alleggerire spese mediche ma si perde l'umanità. Saluto Andrea Battistella, Orazio Filippelli dice l'Associazione Mondiale dei Medici l'11 ottobre ha annunciato a Washington che l'eutanasia è incompatibile con l'essere medico. Lo dice il giuramento di Ippocrate, lo scritto in non capiamo moriamo, la declinazione storica del giuramento di Ippocrate impedisce l'aborto e l'eutanasia ai medici. Adesso lo riscrivono il giuramento di Ippocrate, però il giuramento di Ippocrate esplicitamente, nella sua versione originale, esclude l'ipotesi dell'aborto e dell'eutanasia. Massimo Cardito dal buongiorno a tutti dicendo l'ignoranza genera l'arbitrio e la persona perde la sua dignità. Don Salvatore Vitiello che salutiamo ci ricorda oggi anche lui il centenario della conclusione dell'apparizione che ha fatto, ma con il noto miracolo del sole. Alla Madonna affidiamo il popolo della famiglia e la luce di speranza che questo popolo rappresenta per l'Italia. Grazie a Don Salvatore Vitiello, saluto Rossella Paone, Domenico Trombino, Anna Russo, Rosa, grazie a Pellegrino. Alessandro Margiotta ci ricorda da Rimini che il dovere è della cura, la vita è preziosa proprio perché è fragile. Stefano Gardini dice che anche la vicenda di Loris è una delle tante rappresentazioni di cosa diventa la nostra società con l'abbandono dei valori del cristianesimo. Viene spento l'amore e tutto diventa lecito. Lo ripeto, anche l'indifferenza perché quello che sottostà a questa vicenda è una profonda indifferenza nei confronti di Loris. Oggi tutti a parlarne perché è morto, ma quando diceva e gridava la sua solitudine, quando si era separato dalla moglie, quando perdeva la badante, a nessuno interessava veramente. Anzi, forse era pure un problema. E quindi la soluzione qual è? In questa indifferenza colossale, raccontata secondo me perfettamente oggi nel Corriere della Sera, l'amico quando sa che al telefono Loris gli dice che va a suicidarsi, gli dice buon viaggio. E non c'è nulla di nobile in quel buon viaggio. C'è qualcosa di ignobile, cioè del non sapersi prendere carico delle sofferenze di una persona che definiamo amico. Ma l'amico è pronto a assumere su di sé non solo la sofferenza, ma fin anche la morte per salvare la vita del vero e proprio amico. Oggi sulla stampa locale c'è un articolo intervista alla moglie di Loris, quella che sette anni fa lo ha lasciato, Danilo Bassan me lo segnala, immagino dal mattino di Padova o dal messaggero Veneto, non so quale sia il giornale, ma sicuramente sarà una lettura interessante. Questa moglie che nel 2011 ha lasciato Loris, perché poi si giura che è una buona e una cattiva sorte, ma poi quando la cattiva sorte arriva è un po' diverso. Viaggio verso dove? Verso la Svizzera, Antonio Brescia. Sono viaggi che vanno in Svizzera per pagarsi il suicidio assistito, cioè la dose di Pento Barbital dal costo di 13 euro che viene venduta a 15.000 euro, più altri 3.000 di costi di viaggio, sistemazione, spese legali, spese funerarie, eccetera. Questo è il business costruito da due associazioni che si chiamano Exit e Dignitas, che sui giornali sentite dire che sono tenutarie di cliniche, in realtà non hanno nessuna clinica, in realtà hanno semplicemente degli appartamentini in cui si entra vivi e si esce cadaveri in sacchi neri, raccontato questo dai condomini che vivono accanto a questi appartamenti a Zurigo, della Dignitas e di Exit. Gabriella Cingolani dice che se dici che sei contrario all'autonasia ti mangiano senza pietà, è la verità. Saluto anche Mauro Turdini, protagonista della festa della croce recentissima del PDF di Riolo, c'è Daniela Scavolini che dice che le nuove relazioni orguegliane prevedono la finta pietà che è il contrario dell'amore e la delazione dei nemici dello stato grande fratello e del suo pensiero. Perfettamente ragione Daniela su questo orizzonte orguegliano della nostra società che Monica Consigliere racchiude nella parola orrore ripetuta anche da Barbara Giacovelli, orrore senza fine. Ninnarello mi ha mandato un'email, sono giorni molto incasinati, ho dato un'occhiata all'email rapidamente ma so che ci vediamo domani a teatro Sala Umberto, ho visto il lavoro di Ninnarello. Saluto anche Gabriele Marconi, ci lo racconti perfettamente, sia le forme di suicidio medicalizzato che di odonasia nascono e resistono esclusivamente per la riduzione dei costi per l'assistenza ai malati, è questo il punto. Claudio Iacono dice mi domando se si danno due giorni retribuiti per assistere il cane malato, questa è un'altra notizia che c'era sul Corriere della Sera, bravissimo Claudio Iacono averla tirata fuori, ti danno due giorni di permesso retribuito dalla pubblica amministrazione per curare il cane malato ma non si riescono a fare cultura della vita in questo paese in maniera decente, ma d'altro il Corriere della Sera è il giornale che oggi pubblica tutt'altro, Don Salvatore Vidiello ci informa che oggi a Moncalieri con gli amici del PDF parlerà delle disposizioni anticipate di trattamento, perché morire o perché vivere, Gabriella Maiglia dice per la maggior parte delle persone tutto è libertà, penso solo a me stesso e degli altri non mi interessa. Saluto Giuseppe Brienza, Marilisa Palumbo, Paolo Facchini, Saemir Zmani, Angela De Nicolò, Stefano Terraneo dice, suicidio assistito, libri di decidere quello che vogliono. Allora intanto fatemi dire anche due parole sul Rosatellum, è stato approvato come sapete alla Camera ieri il Rosatellum, solo alla Camera deve andare al Senato, quindi finché non è approvato dal Senato io ancora non credo che questa sarà la legge elettorale definitiva, però vediamo, può essere che la forzatura voluta da Matteo Renzi riesca fino in fondo. Allerta per il popolo e la famiglia, l'approvazione del Rosatellum potrebbe avvenire il 24 o 25 ottobre, attenzione, seguitemi bene, 24-25 ottobre potrebbe essere data di approvazione del Rosatellum, 5 novembre ci sono le amministrative, le amministrative dove siamo protagonisti anche noi nel municipio di Ostia. Gli risultati delle amministrative potrebbero provocare un collasso del sistema politico che si ritroverebbe ad approvare in 30-40 giorni la manovra economica e poi arrivare allo scioglimento delle Camere. Questo vuol dire, cari amici, che tra meno di 60 giorni potremmo dover avviare la macchina per le elezioni che oggi vengono fissate dai bookmaker, diciamo così, e anche dalla prima pagina del codiano Il Messaggero, visto che stiamo facendo da segna stampa, al 4 di marzo. 4 marzo 2018 potrebbe essere la giornata per le elezioni politiche così importanti per il popolo e la famiglia. Il Rosatellum, come abbiamo detto, è una legge porcata evidentemente, però ha degli aspetti positivi per il popolo e la famiglia. Gli aspetti positivi sono intanto la riduzione di un terzo del numero delle firme da raccogliere, da 150.000 diventano 50.000, la riduzione di un terzo, anzi quindi due terzi la riduzione, la riduzione di un terzo anche del numero di collegi diventano 65. E anche la possibilità per gli avvocati cassazionisti di vidimare le firme. Quindi tutto questo agevola la nostra presenza sulla scheda elettorale. È un dato positivo questo, la legge rimane una legge molto confusa, una legge che serve solo a far fare le grandi attruppate della centrodestra e del centrosinistra, soprattutto del centrodestra. Noi staremo fuori da tutto questo, con il nostro simbolo. Si voterà semplicemente, e questo sarà il nostro mantra, e il nostro mantra anche adesso per il municipio Roma 10, croce sul simbolo del popolo e della famiglia. Il nostro problema oggi è far conoscere il simbolo del popolo della famiglia, perché lo conoscono 5, 6, 7 italiani su 100. Noi dobbiamo far conoscere questo simbolo a 50, 60, 70 italiani su 100. Quando avremo questa percentuale di conoscenza del nostro simbolo, sicuramente avremo una percentuale di consenso importante per arrivare al popolo, al Parlamento e far sì, come dice Paolo Ruotolo, di poter fermare eutanasia, autonino affitto, droga libera, tutte le leggi pro morte che saranno fermate dalla presenza ostruttiva del popolo e la famiglia in Parlamento, altrimenti saranno approvate. Sappiate, questa è l'evidenza dei fatti. Questa legislatura ha già dimostrato cosa si fa nell'inciucio centrodestra e centrosinistra. Si prepara un'altra legislatura identica, ma peggiore, per approvare matrimonio qualitario, droga libera, eutanasia, autonino affitto e legge anti-omofobia. Quindi o capiamo o moriamo davvero, o capiamo che questo è il momento dell'emergenza e ci mobilitiamo per far prima di tutto conoscere il simbolo del popolo e la famiglia e per far diventare tutti militanti sul territorio del popolo e la famiglia, per costruire poi la nostra rete di 945 candidati alla Camera e al Senato che accoglieranno questa sfida e dovranno raccogliere poi il consenso. Perché il movimento politico e il popolo e la famiglia, come dice bene il nostro coordinatore Nicola Di Matteo, esiste se scende sui territori e va a parlare con le persone arrivando al cuore. È l'unica strada che abbiamo. Quindi ci sarà ovviamente il supporto quotidiano, delle cose che facciamo su internet, su Facebook, ma poi dal virtuale dobbiamo scendere nel reale. Il reale significa che bisogna portare conoscenza, bisogna far sapere che esiste il popolo e la famiglia, bisogna organizzarsi, bisogna raccogliere voti. Questo è il lavoro che adesso va fatto. Noi parliamo di eutanasia non per fare delle conferenze, non per fare delle prediche, ma per far sì che la legge sull'eutanasia in Italia non venga mai approvata. Per far questo abbiamo solo una strada che è quella di far conoscere, Monica Considere dice che comprerò più copie del libro. Il libro è un manuale che contiene tutte le ragioni per cui noi ci battiamo, per quel che ci battiamo e la nostra proposta per l'Italia. È uno strumento, altri strumenti sono le iniziative sul territorio, altri strumenti sono l'incontro one to one, diciamo così, in cui ci incontriamo con la cittadinanza. C'è chi dice che la grafica, la scritta del simbolo del popolo della famiglia andrebbe rivista, non è adeguata, sembra la pubblicità di un cartone animato. Quello è il nostro simbolo, è il nostro logo, facciamolo vedere, facciamolo vedere anche su Facebook, vedo Vittoria Polacci, ovviamente tutti noi teniamo la nostra faccia, ma io da quando è nato il popolo della famiglia 20 mesi fa ho messo come mia faccia il simbolo del popolo della famiglia su Facebook. Le persone devono conoscere il popolo della famiglia. Ottavio Deludio dice già che si condividono le dirette da PDF e TV è una buona cosa. Esatto, far arrivare la PDF e TV, far arrivare le stampe Vangelo, far arrivare il nostro messaggio. Dobbiamo davvero chiedere a tutti ora un momento di militanza. Militanza vuol dire far arrivare indietro, diciamolo, al nostro ego e far arrivare davanti la partita della raccorta di consenso. Cesare Faffari dice non cambiate niente, infatti non cambiamo niente, tranquilli. Il simbolo è quello, con quel simbolo ci presentiamo, con quel simbolo raccoglieremo consensi, ma ora serve organizzazione. Iscrivetevi al popolo della famiglia. Domani, se potete venite al sala Umberto, sarà di fatto una prima grande occasione di aggregazione tra i nostri amici e di mobilitazione in vista delle elezioni. PDF e TV è una pagina, dico a Mario De Cristoforo che lo chiede, si chiama Popolo della Famiglia TV, basta fare mi piace, si può seguire ogni puntata delle trasmissioni PDF e TV. Monica Consigliere, Simona Lupi, tutti dicono che il simbolo è bellissimo, noi daremo ovviamente questo simbolo. Ora attenzione, lo ripeto, 24-25 ottobre potrebbe esserci la forzatura definitiva sul Rosatellum. Una volta approvato il Rosatellum ci sono le elezioni amministrative, poi la manovra di bilancio, poi lo scioglimento delle Camere. Alla domanda cosa pensi da una legge elettorale che mi fa Gianluca Baldini, è una pessima legge elettorale fatta con i piedi, come al solito, da questa classe dirigente che cerca solo di cucirsi un abito su misura. La mia idea, dopo aver fatto tanti anni politica, è che quelli che vogliono cucirsi l'abito su misura spesso rimangono fregati. Quindi, poiché questo abito su misura ha tasche che sono molto utili al popolo e alla famiglia, utilizziamo questa legge, tanto non la votiamo noi, non la decidiamo noi. Prendiamo questa legge e andiamo a fare la battaglia con le regole che questa legge fissa. In autonomia, chiedendo il voto sul simbolo del popolo e la famiglia, candidando i nostri candidati nei collegi nominali, i nostri candidati nelle liste plurinominali, ci saremo noi a rappresentare questa alternativa possibile. Saluto intanto anche la Pongiluppi Leuteri, che è appena arrivata sulla trasmissione di oggi il nostro coordinamento editoriale. Danilo Bassan dice che deve assistere alla mamma anziana, speriamo nella diretta un abbraccio. Saluto Maria Rosa Ferraresi, saluto Simona Lupi che parte alle 6.45 per arrivare alle 10.10, ma se il teatro si riempie, cosa succede? Entrerete tutti, non chiuderemo le porte. Entrerete tutti, questo è assicurato, chiunque venga domani al teatro Salomberto è assicurato dall'ingresso in teatro. Abbiamo fatto preparare anche tutti i corridoi, possiamo arrivare fino a mille persone, quindi tranquilli, si entra tutti. Il consiglio è sempre, arrivate prima, arrivate alle 11, perché l'iniziativa è proprio alle 11.30, però se arrivate alle 11 vi sedete anche tranquillamente. Quindi il consiglio è di arrivare dalle 11 al teatro Salomberto. Noi cominceremo dunque di fatto un percorso di campagna elettorale da domani dalla Salomberto, si farà un percorso duro, ma sono 5 mesi, in tutto sono 5 mesi. Il 4 di marzo disse in realtà meno di 5 mesi dalla data di oggi, 13 di ottobre, centenario dell'ultima apparizione mariana col miracolo del sole a Fatima. È un percorso che sarà facile, sarà faticosissimo e già non avete idea di quante rotture di scatole affronto ogni giorno, con piccole fregnacce anche tra di noi, ma viene risolto tutto. Tutto si risolve perché si risolve anche qualche volta d'imperio con il mio intervento diretto dove le cose diventano fastidiosamente ambigue. Tutto sarà risolto, avremo una grandissima squadra di 945 iscritti al Popolo e la Famiglia che si presenteranno alle elezioni. Chiedo a tutti di iscriversi al movimento anche tramite il marketplace del quotidiano La Croce, dove si può acquistare anche o capiamo o moriamo se volete. Dunque il marketplace è www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e ritrovate anche lo spazio per fare la tessera del Popolo della Famiglia. Ovviamente candideremo solo iscritti al Popolo della Famiglia, dunque chi vuole fare il candidato alla Camera del Senato provveda a fare l'iscrizione. Daniel mi informa che effettivamente dalla data delle elezioni ci separano solo quattro mesi e mezzo, sono 135 giorni. Ripeto, 135 giorni. Don Massimo Lapponi dice che non so come si copia e incolla nel simbolo, non lo devi copia e incollare, devi averlo come immagine, come fosse una foto e poi usarla come foto per metterla nel simbolo. 135 giorni. La prima fase ci sarà Assemblea nazionale, definizione liste, liste definite andremo a raccogliere le firme, firme raccolte, campagna elettorale. 4 marzo, risultato che storicamente può segnare il cambio di passo non solo per l'Italia ma per l'Europa. Può cambiare tutto e dipende veramente e solamente da noi, dal nostro grado di impegno. Se vogliamo fermare l'orrore del suicidio assistito, dell'eutanasia, del luto in affitto, del matrimonio cosiddetto egualitario, della droga libera, della cancellazione e dell'obiezione di coscienza per i medici antiabortisti, se vogliamo essere quelli del reddito di maternità, del quotiente familiare, dell'investimento sulla famiglia, del diritto del bambino ad avere una mamma e un papà, della scuola libera, del no gender nelle scuole, se vogliamo essere questo abbiamo una sola vera occasione, far vincere il popolo e la famiglia nei prossimi 135 giorni. Incontrarci domani alla Sala Umberto sarà un primo momento anche di festa tra tutti noi, insieme ad amici che hanno fatto avviare tutta questa vicenda fino al Family Day come Costanza Miliano, Marco Scicchitano e padre Maurizio Botta, poi comincerà un percorso, sarà un percorso non facile, sarà un percorso duro, ma noi possiamo farcela perché non siamo soli in questa battaglia, lo sapete bene, non siamo soli in questa battaglia. Serve il sostegno di tutti, anche quello economico, per questo il tesseramento dà un aiuto anche ad avere un po' di denari per fare per esempio i manifesti che adesso servono a Giovanni Fiori per il territorio di Ostia. Dal 20 dicembre ci sarà Locum Tour in Sicilia, Catania, Messina, Siracusa, Palermo, mi informa Salvatore Asero, se poi mi da pure le date così magari ci vengo pure a Locum Tour. Saluto Vincenzo Topa che legge da Costanza Miliano, oggi il giornalista medio ha l'autonomia di giudizio di un criceto, lo metti sulla ruota e lui va, esattamente ha ragione Costanza Miliano e domani ci abbracceremo anche la nostra Costanza all'assemblea della Sala Umberto. Saluto Ugo De Rose, Gianluca Valpondi, io vi ringrazio per la militanza di oggi e per la presenza qui in diretta, fate vedere questa diretta con un mi piace un condividi, domani non ci sarà la puntata evidentemente perché sarò alla Sala Umberto quindi domani siamo impegnati nella presentazione di O Capiamo Moriamo alla Sala Umberto di Roma. Ci vediamo lì alle 11 a Via della Mercedes 50, la puntata dunque di domani non c'è, c'è la puntata di lunedì come sempre alle ore 8 e qualche minuto quando appunto rientriamo nella programmazione ordinaria di Popolo della Famiglia TV. Vi ringrazio per il mi piace e il condividi che volete fare a questa diretta, invitate tutti gli amici che conoscete su Roma, se non siete romani, a venire alla Sala Umberto domani o se siete romani, mobilitatevi per la presenza appunto a Sala Umberto via della Mercedes domani alle 11, vi aspettiamo numerosi, ci dice anche la bellissima Bernarda Raucci. La buon giro, i leuteri dal coordinamento ideoriale ci conferma che Stampa e Vangelo torna lunedì alle 8 e qualche minuto, buon rosario e digiuno a tutti, oggi in memoria del centenario, dell'ultima apparizione mariana a Fatima con il Miracolo del Sole, saluto Lorenzo Damiano da Conegliano, vedo anche Attilio Negrini da Brescia, vedo Anna Scapin, Alessandro Cocco che arriva da Trieste, saranno giorni molto molto intensi, divideremo insieme 135 giorni da oggi e forse avremo realizzato uno straordinario miracolo, ovviamente solo se lo sguardo benevolo di Maria Vergine si poserà sulla nostra attività e implorerà la benedizione dal Signore, altrimenti ci incenerisca se non siamo strumento utile al disegno complessivo di Dio. Ringrazio tutti per la diretta di oggi, ringrazio Fiorenza Pasini, Anna Bartorelli, Luciano Signorile che ci saluta da Barletta, Paolo Campisi e tutti voi che siete stati pazienti e tranquilli in questa diretta. Vi saluta anche Silvia che la diretta l'ha avviata, salutando Danilo Leonardi, Faustino Gogliandro, Giovanni Albicini, Leonardo De Stefano, Gasperina, Anna Ligiato e tutti voi da Maria di Nolfi. Una buona giornata a tutti.